le prime che è Jack, Jacks, scusami, Jacks, le Jacks, dove sono? Eccone, un applauso, Firenze! Allora, le Jacks sono loro, ma la ballerina principale arriverà con effetto surprise. Allora, questa volta portano un'esibizione accompagnata dalla sua crew e che la supporta e la fa ballare in un modo magico. Facciamo un applauso alle Jacks e il palco è tutto vostro. It's been, it's been, it's been, it's been a family, it's been a musician and ei but it's been a rollingюz process. Grazie per la visione 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 Grazie per la visione